E ben a tutti ragazzi per venerdoti in questo nuovo video, sono Nico Stiamo dicendo, oggi siamo Si è strappato il pigiamo, ok Oggi siamo qui in un nuovo video di Fortnite Ragazzi, oggi andremo a spaccare in arena dal secondo account Perché ragazzi vi ricordo che il mio primo account Sto in Lega con Dendendi, divisione 7 Quasi 4500 punti Quindi, ok, lasciamo perdere Siamo qui nel nostro secondo account Io già ho giocato prima E ora commenterò solo Non sto giocando, ho giocato prima Mentre registravo il video Ok, ragazzi, eccoci qui Abbiamo già fatto un'eliminazione Ok, perfetto Boom, eccolo un altro ragazzi Polverizzato questo Perfetto Qui ce n'è un altro che vorrebbe fare il figo con la mitraglietta Ma noi Un altro polverizzato ragazzi Siamo diventati dei pro player pure in arena Qui abbiamo perso, vabbè, però Dettagli Bugli down ragazzi, abbiamo sbloccato Non so se si chiama così Perché abbiamo sbloccato il 2F Non fateci caso, ma mi si è strappato il pigiama Così a caso Mentre facevo il video Quando mi ero incazzato per perdere Ho preso sto coso del microfono Quello pure rotto E ho fatto zack E si è spezzato tutto il pigiama Comunque ragazzi Siamo qui con questo ballo abbastanza figo Che è perché abbiamo attivato il 2FA Ragazzi Ce l'hanno dato in questo In questo miraviglioso account Che è il secondo account di N1K0 Ragazzi Potrebbe arrivare anche un secondo canale Chi lo sa Quello lì ragazzi Magari me li è scritti Perché ancora che ne ho 430 Anzi ragazzi Vi ringrazio per il 430 Eravamo a 429 Fino a 3 secondi fa Ok, grazie Ma non perdiamoci in chiacchiere Fatemi sapere nei commenti Che è stato il Magari commenta proprio lui Il 430 iscritto Comunque Andiamo ancora in arena Qui pensavo di aver tagliato questa parte Ma non l'ho tagliata Quindi la commenterò pure A few moments later Ok ragazzi Siamo in lobby Perfetto Ragazzi Questa partita Sono state fighissime Fuori di testa Le arene Le arene Le partite dell'arena Più belle ragazzi Più belle Perfetto Qui stavo provando Che è bello Quando non ci levano i punti del boss Nel frattempo Un'altra eliminazione ragazzi Il pompa del nonno È sempre un fidato amico Perfetto Andiamo A vedere Cosa succede Qui non mi ricordo cosa faccio Non lo so Forse ci schiatto male No 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 Quella Quella è la fantastica della fiocina Ragazzi è bello Questa kill è stata stupenda Stupefacosa Stupefacente Guardate Opla Boom Ragazzi Bellissimo Mi sembrava una mitoglietta Infatti me la sono presa Però poi ho notato il P90 Leggendario E ho preso ovviamente quello ragazzi Perfetto ragazzi Ehm Qua ragazzi Abbiamo Fatto un bel po' di kill No? In questa partita Nelle partite in generale Ehm E niente ragazzi C'è va Anche in arena Guardate Il fighetto C'è va Niente Comunque Non mi so spiegare Ehm Siamo stati bravi Bravi Questo fight ragazzi Lo odio Perché Questa qui Ci ha ucciso In un modo strano Che non so spiegare Però ok Io ve l'ho spoilerato Ma dettagli Eccola Eccola Guardate Ehm E ora questa qua Cosa fa Non mi ricordo Se è questo O l'altro fight Quello là Strano No l'altro 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 Allora ragazzi Nel Primo account Sono così Le mie contendenti Divisione 7 Ci tolgono purtroppo 40 punti Ogni scesa del bus E basta Qui ragazzi Stiamo per massacrare Uno che Ha le armi bellissime Guardate Guardate Opla Ucciso 20 Punti 20 punti Hype Che sono i punti Che ti permettono Di arrivare a vette alte In arena Ragazzi Parteciperò A torneo di Deathstroke Perché ho attivato Il 2FA Finalmente ragazzi Perché ho trovato Il modo di attivare Il 2FA Finalmente Ehm Però ovviamente Da questo secondo account No dal mio principale Perché in quella ora Non mi ricordo In quella mia principale Non mi ricordo Le credenziali Quindi No scassate Ehm Basta Oggi stiamo facendo Lo scudo Non sopporto Che mi sia strappato Il pigiama Questa cosa Mi dà fastidio E vabbè Me lo farò cucire Oppure cambierò Il pigiama Direttamente Che è la cosa La cosa migliore Da fare Ehm Perfetto Lì c'è uno ragazzi Non lo prendiamo Manco poco Abbiamo preso La macchina Ok L'abbiamo preso Stavolta Ora lui Fa il figo Noi lo vorremmo investire Ma non ce la faremo Guardate che bello Eh Lui qui non c'è Non lo vedo più Dov'è Dove sei Ragazzi Queste clip Valgono euro Molti euro Sono bellissime Non è vero Però belle Guardate ragazzi Ora questo qui Ci vorrebbe uccidere A modo suo Ma noi Siamo i più forti Guardate Guardate come si faccia Testolina 80 Laserato E niente Perfetto ragazzi Ho dovuto bloccare Un secondo Ma ho ripreso Allora No Mi è caduta Il joy Porca Comunque Stiamo qui Stiamo cercando A quello ragazzi Lo cerco Da tutte le parti Ma non lo trovo Perché se l'ha Se l'ha scappato Volevo dire Scusate per il mega rottone E niente Non lo trovo più Quindi pazienza Ragazzi Vediamo se Con l'arco Riusciamo a fare Qualcosa di bello Di figo Di inimmaginabile Di bellissimo Ragazzi E niente Questo pigiama strappato Che mi strappato Allora Mi da sui nervi Mi sta dando Sui nervi Ragazzi Ma sui nervi Di brutto Perché voi Non potete Immaginare Che nervi Mi sta dando Io gli metto Un cappello Che mi secco A cambiarmi ora Che devo andare A letto Oltretutto Ok Perfetto Cappello Non cadere Allora Allora Qui ragazzi Non c'è da commentare Perché Mi da fastidio Pure questa clip Questo qui È che mi uccide In modo strano Lui 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 Questo qui Questo qui Mi uccide In modo strano Quindi Se volete Il ritorno Della Delteprano Challenge Se lo volete Io sarei molto felice Di tutto ciò E Niente Speriamo Che lo volete Perché io La voglio fare Ma se non lo volete Non la faccio La mia voce Era qua Prima di andare A letto È Bellissimo Perfetto Oh cazzo Il cappello Porca Ok ragazzi Eccoci di nuovo La webcam Sta dando un pochino Di problemi A quanto vedo Comunque Siamo caduti Pure qui Ragazzi Sì Perché ce n'è Un'altra caduta Più bestiale Più brutta Che mi fa incazzare Ecco ragazzi Questa è la Che non capisco E non la No Dalla scala Non avevo capito Questa killer ragazzi Dalla scala È impossibile Poi siamo Atterrati nella Nella fortezza Di Orella E ci siamo andati A prendere Tutto quello Che è il nostro Ovvero Lo scarata Lo scar Lo scaracca d'oro Ragazzi Leggendario Perfetto ragazzi Ancora siamo 8 minuti E virgola 27 Di registrazione Voglio dirvi Che questo È un momento cruciale Perché con questo Scaracca Non faremo nemmeno Una kill Ve ne vado No non è vero Ragazzi Scherzo Cioè va pure Non lo so Comunque Pausa Benzina Ok qui c'è Una bananita Ragazzi Che come vedete È incazzatissima E infatti Ci ha fatto Un danno Un bel po' Di danno Ci ha lasciato Con 5 di vita Come vedete Mi faccio Un fluper al volo Poi La becco Qui sotto E la uccido GG Pulverizzato Perfetto ragazzi Vabbè Ok ragazzi Dalla prossima Dalla prossima clip Che vedrete Non lo sto più commentando Dalla prossima clip È che lo sto proprio giocando Quindi non vedete nemmeno Poi il cappello Perché Non ci avevo ancora pensato Che me l'ho strappato Il pigiama Cioè me l'ho strappato Da prima Però non me l'ho accorto Quindi Dalla prossima Da questa Dalla prossima clip Infetto ragazzi Abbiamo trovato Appena appena Una mitrelletta epica Incredibile Nel frattempo Mi sono strappato Il pigiama Vabbè Comunque Mitrelletta Non ci interessa Questa qui Perfetto Ragazzi Ormai non ci ferma Più nessuno Non ci ferma più nessuno Questa qui è Vittoria Me lo sento Questa qui ragazzi È Vittoria Me lo sento Mille per mille E se me lo sento io Fidatevi Quindi ragazzi Andiamo Andiamo Più lontano Siamo qui a foresta Frignante E niente L'abbiamo preso Un colpo Oh wow Un colpo Laserato No non l'abbiamo laserato Perché l'abbiamo preso Solo un colpo Ragazzi Mò incendiamo tutto No Guarda che Arriva il boss E mi incazzo Porca vacca Colui non è morto L'ho laserato Questa volta Potentemente Il boss Ragazzi Ci sta sparando Me lo immaginavo E Ragazzi Niente Direi Di andare fuori Da foresta Perché qui Si lasera Il boss Quindi Non va bene Non va bene Alla Questa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.